Buonasera a tutti signore e signori sono Ronnie Rappone Polverici ed ora abbiamo qua, siamo in Dina scusate con il grande ogello e abbiamo qui i pupi e ci dovrà svelare una realtà sconvolgente il nostro amico Ricky Sarnagiotto Buonasera Ricky, dici qual è il segreto? Ho scoperto una roba, è vero che te con quel pollice non è che vuoi fare solo la retroscopia che proprio stai cusci per aspettare che ti fanno che ti pia le impronte digitali perché sei un delinquente hai capito? E chi l'avrebbe detto? Hai capito pupi? Diano misera ragazzi quanta me ne svelo Vabbè dai, ciao bello, dico a tutti dico Dico a tutti dico